lungo le scale ancora forte l'odore acre delle fiamme e della tragedia un corpo arso non si sa ancora a causa di cosa forse una stufa malfunzionante forse un incidente domestico la scena che i carabinieri si sono ritrovati dinanzi agli occhi è però raccapricciante arsa dalle fiamme una donna di 81 anni concetta bizzarro il contesto di questa tragedia il rione 219 di melito zona degradata e abbandonata a se stessa che vive a ridosso del comune della tenenza dei carabinieri sul posto sono giunti gli uomini del nucleo investigativo di castello di cisterna per tutti i rilievi del caso per ora però è stato interrogato il figlio della donna che era in casa con lei mentre il corpo della madre veniva consumato dal fuoco perché non agito perché non ha spento le fiamme dormiva non si è accorto di nulla non è ancora chiaro sulla dinamica stanno lavorando i militari dell'arma della compagnia di giuliano i vicini di casa parlano di concetta come una donna tranquilla così come dell'intera famiglia insomma è un giallo